Ci siamo conosciuti quasi per caso, il caso poi è un mio collega e quello che mi sento di dire è che ha avuto modo di parlare diverse volte traspare esperienze, perciò non si parla per sentito dire, non si parla semplicemente perché si ha detto qualche cosa da qualche parte, si sente originalità, perché si viene messo qualche cosa che è extra, quello che invece quotidianamente si può ricercare su internet un po' dappertutto e poi quello che mi è piaciuto fin da subito è che c'è dietro anche una parte di sociale che sicuramente non la si trova così facilmente in chi fa qualche cosa solo puramente per business, ecco, questa chiusura del cerchio secondo me fa questi che ho avuto sicuramente anche arrivati verso la prima cosa che ci porto vanno a trovare Grazie mille!